Musica Ciao ragazzi qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con il secondo episodio sulla nostra serie su Skyrim ragazzi, su PS4 Allora, ragazzi lo scorso episodio è stato fantastico perché siamo andati nelle montagne innevate dai barbacrigio che sono i mentori dei sangue di drago e ci hanno insegnato un augurlo Ma togli te le palle, chi ti sta parlando? E raga appunto siamo a Whiterun adesso e dobbiamo appunto fare un incarico per i nostri maestri, per i nostri mentori Dobbiamo recuperare, allora andiamo sulla mappa Perché ragazzi noi siamo qua a Whiterun, dobbiamo recuperare praticamente il corno di Jürgen Winecolor Ragazzi e il nostro obiettivo è qua Cioè noi ragazzi siamo qua Qua, il nostro obiettivo è qua su Sarà un bel viaggio ragazzi Perché dovremmo fare praticamente sto giro qua Così, attraversare tutta questa pianura Girare qua, quindi schivare la catena montuosa E arrivare a destinazione a Ustengrab ragazzi Adesso pronuncerò i nomi di merda, Ustengrab No, è giusto Quindi ragazzi da Whiterun dobbiamo arrivare a Ustengrab Ustengrab, madonna abbiamo in palpino Ok, allora ragazzi Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like Vi dico subito ragazzi una notizia Il let's play di Assassin's Creed 2 In generale della Ezio Collection non ci sarà Perché ragazzi non abbiamo raggiunto i 30 like sotto il video Lo scorso, quel video famoso in cui vi chiedevo di raggiungere i 30 like Se volevate il let's play di Assassin's Creed 2 eccetera Non abbiamo raggiunto i 30 like Quindi ragazzi non lo farò Mi dedicherò ragazzi a Skyrim ragazzi sul canale Dopo, cioè insieme al let's play di Black Flag E insieme ai vari live che farò ovviamente Allora, detto questo ragazzi Io direi subito di partire Per Ustengrab Sono nella pianura ragazzi C'è una nebbia da madonna E... Oddio C'è un falò Oddio dei mammut Oddio cos'è quello? Ragazzi è un gigante qualcosa lì Oh mio Dio Sbaglio sempre tasto ragazzi Ma è un gigante Sono giganti quelli ragazzi Via da qua Assolutamente via Ok ragazzi Mi sto dirigendo verso la missione Allora questa è la catena montuosa Che c'era sulla mappa Quindi in teoria sto andando dalla parte giusta Che schifo sono sti cosi Oh sti cosi ma... Ok Ragazzi voglio attaccare sti cosi eh Granchi del fango Ok Queste cose ragazzi vendo poi Perfetto Oddio qua cosa c'è? Ho visto qualcuno O qualcosa Ha un coniglio Non ho piangato in mano per niente Ok ragazzi Qua c'è un sentiero molto bello Tra proprio Tra le montagne E penso che stiamo Eh si stiamo superando la catena montuosa ragazzi C'è un sentiero proprio all'interno della caverna Cioè della Caverna Della Oddio Della catena montuosa Ok Ragazzi hanno ieti quello Ma ti faccio il culo pezzo di merda Preso 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 Marta che brutto che ha Ah scappi? Nel culo Ah c'era aumentato a 19 Mamma Via 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 Madonna mia Se carica questo qua Via raga Ma dò lo sto schivando in una maniera incredibile Aia come ho preso Corri Non ho più stamina raga Corri 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 Beccati l'urro Di drago Bam No 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 Via via da qua Ok Ragazzi Sta aumentando l'arceria in una maniera incredibile. No, no, sto morendo, sto morendo. La pozione. Anch'io non me l'ho accorto che stavo morendo. Ok, mi sono ricaricato tutti un aiuto. Ah, via, 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 via. Ok. Ragazzi, è il momento, spada. È il momento di fargli il culo così. Madonna mia. Ragazzi, un tostissimo in pittà giù, eh. Minchia, ragazzi, però me sto potenziando molto. Merda. Ragazzi, non ho stamina, porco cazzo. Devo diventare assolutamente la stamina di livello, perché non ne ho tantissimo. Merda, mi prendo. Merda, no, no, no. Ragazzi, qua ci muoio io, devo scappare. È troppo forte. Almeno che non facciamo così, raga, mi è venuta un'idea. Allora, poteri. No, non è qua. Merda. Dov'è che è? Distruzione, fiamme. Così, raga, cosa... Secondo te... Secondo me li facciamo qualcosa? Posso salire il suo stebolone? Non penso. Aiuto. No, non ti bloccare così. Aiuto. Ah. Posso salire, in effetti. Sali. 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 Aiuto. Non posso salire, non posso salire, ho capito. Vabbè. Ti piace? Penso che sei delle nevi. Il calore, ti piace? Cioè, no, raga, ha recuperato tutta la vita, questo. Raga, sta morendo così, però. Funziona. Oddio, mamma. Oddio, aiuto. Stronzo. Mamma. Raga, ci muori. È morto, raga. Funziona il fuoco contro questi stronzi. Eppure bene, funziona. Ok. Frecce, quattro, grasso di troll, qua. Tro? Ok. Stronzo schifoso. Vaffanculo. Ok. Togliamoci la magia. Perché tanto... Ok, ma sono messa come preferita, perché almeno andavo ogni volta a andar lì. Ok. Perfetto, raga. Andiamo avanti. Cioè, più che altro continuiamo la nostra avventura. Raga, me lo sono trovato davanti e non potevamo uccidere lo stesso stronzo. E ce n'è un altro. Ok, me lo vado sul sicuro io, però. Anzi. Ma una cosa faccio, raga? Eh, fatti sotto. Quanti sono finiti questi poteri, ragazzi. Sono bellissimi. Distruzione aumenta a livello 21. Uno. Ok. Ok. E io ce n'avevo un altro. Ok, uno è morto. Perfetto, raga. Uno è morto. Grasso di troll. Ok, devo un po' ricaricare le fiamme, ragazzi. La mia magica è molto bassa. Vabbè. La mia magica è molto bassa, attenzione. Merda, non è abbastanza magica. C'è una pozione per aumentare la magica? Pozione, pozione, pozioni. Sì. Ce l'ho e come. Penso che sei morto, mico mio. Oddio, quasi aiuto. Ok, ci sono. Sei morto. Grasso di troll. Ok, raga, andiamo avanti. Qua c'è una capanna, tra l'altro. Esploriamo, raga. Io tengo le fiamme perché... Ci sono troll ovunque in questo posto. Mi stimo di un mercenario. Sembrava un lavoro piuttosto semplice. Allora, ragazzi, metto 5 secondi per leggere. Ok, mettete pausa e leggete. Ok, parla di troll comunque, mi sa. Forse. Un santuario questo. Ok, raga. Allora, vediamo un po'. C'è qualcos'altro? Non c'è più niente. Continuiamo, ragazzi. Raga, io sto amando questo gioco. Lo sto proprio amando. Allora. C'è, raga, penso che tutto il periodo natalizio giocherà questo. Fantastico. Mi sa che anche lo speciale natalizio è ragazzo su questo. Penso proprio di sì. Oh, madonna, se è alto. È però da andare in laio. E devo scendere, quindi. E qui sono fottuto. Vabbiamo che non faccio così. Aiuto. Ok. Ti può fare che il primor, ragazzi? Ci volevo delle montagne. No, il c'è che bello. Raga, qua stiamo attenti agli ieti. O troll delle nevi. Io li chiamo ieti, raga. Perché qua ce ne sono i nostri. Oh, che cazzo è? Oh. Oh. Oddio, banditi. Banditi, banditi, banditi. Aspetta. Porca di quella... Bastardi. Mi stanno ammazzando tantissimo. No, 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 no. Raga, sto morendo. Sono morto. Sono morto. Che bastardi, raga. Cioè, sì. Uno mi fulminava, l'altro mi incendiava. Quell'altro mi faceva la spada. Minchia, sono intelligenti questi stronzi. Sti banditi di merda. Raga, non ci crederete mai. Io giuro che non lo sapevo. Quando muori, riparti dall'ultimo salvataggio. E il mio ultimo salvataggio è la Watran. Devo rifarmi tutto a strada. Fino alle montagne innevate. Ragazzi, taglio. Ci vediamo tra poco quando sono ancora là. Ed è bello che dobbiamo uccidere ancora i troll. Ottimo proprio. Ragazzi, eccomi qui, ritornato. Sono nel posto di prima. Tra l'altro, durante il viaggio, ho trovato anche un bel cavallo. Cioè, lungo la stagione ho trovato un cavallo. Ragazzi, l'ho preso. E così siamo anche più veloci a spostarci. Abbiamo un amico in più. Ok, raga, poi inizia la parte dei troll, effettivamente. Eccoli qua. Ce n'è già uno lì. Quindi io scenderei dal nostro spirit cavallo del vaggio. Perfetto. Tu rimani qua che devo fare il culo a quel bruttone. Ah, proprio te ne vai. Vabbè. Oh, merda, arriva. Ok. Perfetto. Fatti sotto, stronzo. Fatto fuori. Labirintian. Nuova scoperta. Ok, raga. Faccio così. E salvo. Perché poi il peggio non volevo rifarmelo. Quindi salvataggio rapido e mi salva la partita, raga. Dove far così non lo sapevo. Pensavo ci fosse salvataggio automatico. Ok. Vai al cavallo. Eccolo qua. Vieni bello che noi... Non vai? Dove vai? Vieni qua. Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti se c'è un modo di tipo fischiare e chiamare il cavallo. Oppure farcelo proprio nostro che lo fischiamo e lui viene. Non so, fatemelo sapere perché non lo so. Ok. Ok, raga, forse sono altri troll, però stiamo attenti. Perché non è tanto prudente. Cioè, in teoria potremmo anche scappare, sinceramente, però... Cioè, andiamo avanti e basta, raga. Oddio, eccolo. Via, vieni da qua, vieni da qua. Raga, andiamo avanti. Non fa niente. E soprattutto ora che abbiamo il cavallo siamo più veloci e possiamo schivare quei banditi... 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 Banditi. Perché non riesco a dire banditi? Quei banditi di merda che c'erano prima. Raga, è... È inquietantissimo sto posto. Non so se è stato... Sembra quella palude che c'era nel... Nella storia infinita. Quando c'è Falcor che... C'era un Falcor. Il cavallo che affoga nelle sabbie mobili. Il cavallo era bianco. Ok, raga, spero solo che ci sia solo una coincidenza. Andiamo avanti. Ok, non dobbiamo essere lontanissimi, raga. Vediamo quanto cacchio manca... A sto posto. E infatti siamo arrivati. Molto bene. Raga, cavallo è tutta altra cosa. Perfetto. Siamo arrivati, ragazzi. Qua c'è qualcuno. C'è un fallo acceso. Non c'è nessuno. Va bene. Entra, scendiamo. Perché siamo arrivati. Non mi sale qua sopra? Ah, qua si sale, perfetto. Adesso, proprio le scale... Oh, madonna mia, che schifo. Che merda. Ok, ste cose poi le vendono tutte, ragazzi. Cosa c'è qua? Capanula mortale. Dei fiori. Va, li ho raccolti, non so mai. Ok. Ci siamo, ragazzi. C'è una porta. Entriamo. Cosa ci aspetterà qua dentro? Ma... Chi lo sa? Sicuramente zombie, cose del genere. Oh, madonna, che posto. Ok, ragazzi. Vi ricordo che il nostro obiettivo è trovare l'artiglio di qualcosa. C'è gente qua sotto, però, ragazzi. Aspettate. Allora, arco imperiale, raga. Ci andiamo di arco. Ok. Così. Non so se sono nemici amici, raga, ma io in dubbio. No, sono nemici, raga. Sono maghi addirittura. Anch'io non l'ho preso. Mamma mia, headshot. No, un livello, ragazzi. Quello 5. Mamma mia, è un altro. No. No. Non è fatto mancare. Ok. Perfetto, raga. Fatti fuori tutti. Furtivamente, tra l'altro. Ok, oro. Tomo magico cura. Uovo di passano delle rocce. Che cacchio me ne faccio? Vabbè, lo prendo per sicurezza. Vestini del mago. Uh. Questi mi potrebbero interessare, visto che voglio fare il mago. I stivali non mi interessano. Ok. Quanto sei buono. Veramente. Allora, vediamo un po' che c'è. Qua c'è una donna. Sempre con le vesti da man... No, vesti da necromante. Necromante. Colteschio figo. Non mi interessa, però. I stivali, frecce. Questo sì. Questo. Sono banditi, raga, ho fatto bene ucciderli. Sono banditi piccone. Vabbè, sì, raga, lo prendiamo. Potrei sempre venderlo. oro, oro, frecce, piccone, ne prendiamo un altro, tanto. Ok. Raga, teniamo in mano l'arco perché vorrei fare tutto sterzo se ce lo faccio. Raga, che è brutto più. C'è gente, raga. Merda. Merda. Raga, sono zombie. No, 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 no. Raga, ma è congelato questo stronzo. Ok. Si va di scudo in spada, raga. Ragazzi, sono zombie. Che cazzo di figata. Spam. Spam. Adora, ragazzi, queste mosse quanto mi fanno gasare. Tantissimo. Allora, ascia, che non mi interessa fare la dose, è oro. Queste sì. Tu che c'hai? Oro. Perfetto. Tu che c'hai? Un cazzo, praticamente. Tu che c'era? Allora. Raga, praticamente si dovevano seguire l'obiettivo sempre. Uh. Queste, raga, le vediamo tutte. Discussione salute. Ottimo. Questo cos'è? Raga, un labirinto sto posto. Darnation man station. Ok, questo non sembra essere niente. Qua c'è un del giro, poi c'è un'altra pozione curativa. Davvero ottimo. Qua c'è qualcosa, non c'è niente. Qui c'è un baule. Oro. Perfetto. E' la pozione del vigore. Qui, oro. Raga, vedete? Sempre controllare tutto, perché... Ma qua non c'è niente. Perfetto. Non c'è niente. Ragazzi, ho voluto tornare a Whiterun dopo sta missione e vendere tutte le cose che abbiamo. Uova di Charus. Che cazzo? Ok. Moro. Come passo di qua? Ok. Raga, è un labirinto sto posto. Pozione dell'occhio di Falco. Il mistero di parola. Recupero, ok. Ah, come sempre vi lascio 5 secondi per mettere in pausa leggere. Ok. 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 Quanto c'è da leggere adesso al gioco. Porca puttana. Madonna mia signora. Ok, finito. Per fortuna. Oro, pozione del vigore. Oro. Raga, ottimo. Qua c'è dell'altro oro. Lo sapevo. Oh, pozione del curativo. Raga, sono utile ste le posizioni tutto, eh. Da che parte da andare? Penso di qua perché. Di qua? Si, è nato di qua. Secchio valore 1. Messo. Quanto oro. Oddio. Stai trasportando troppo peso? Merda, quindi do... Madonna, va lentissimo. Aspetta, fatemi lasciare qualcosa che era assolutamente, no? Ha tutto, vediamo. Questo lo tengo. Questo anche, questo anche, questa no. Poi, partire di orso, questo sì, questa la tengo perché è buona, poi la vendo, perché non torno a uso. La birra la lascio, tanto il boccale anche, questa pure. Questa no, questa no, questa no, questa no, questa no. Questa no, questa no, questa no. Quanto del cultista? Eh, sono ragazzi me lo vendo, però. lanterna da questa la tolgo vedete che siamo a posto forse piccone la tolgo tutta la cosa inutile la tolgo spazzo ragazzi ne abbiamo due lasciamole una stivani occulti sta la tolgo andrei che siamo a posto ragazzi una torcia la tolgo sta roba ragazzi penso di toglie le uova sarò una minchia penso cioè serviranno a qualcosa ma ok questo lo tengo questo lo tolgo e questo lo tengo minchia ok ma scusate ratti posso usare una torcia per vedere perché è buio qua dentro vediamo una torcia eccola qua torcia metti i tanghi feriti così almeno faccio così torcia oh vedi che bello oh si raga vedo qualcosa ok spavento frecci di ferro prendi assolutamente allora qua ragazzi no pensavo che potevo farlo invece no allora andiamo di qua 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 ok merda mamma 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 mia ok ok un goto di ferro utile per potenziare le armi oro grazie mille ragazzi ok siamo vicini all'obiettivo comunque ora qua c'è un passaggio segreto non c'è un caso ma lo vediamo qua c'è qualcosa oddio ragazzo ma dark soul in sto punto ha permesso ok ok forse di qua oh qua c'è un po' zio valli 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 c'è un baule ottimo sì ragazzi penso che devo andare di qua perchè sennò infatti trovata cosa c'è qua forse di monete ottimo 27 monete ok ragazzi cosa ci sarà di qua ad aspettarci boh ragazzi c'è un bel like perchè a me piace un bordello portavolo questo gioco fatemi sapere se a voi piace oddio ok ragazzi effettivamente voglio vabbè no per ora la torcia lasciamola perchè abbastanza utile ragazzi fa luce ok questo è il mio che vuol dire che lo guarda è sempre non vi è da perché la torcia mi è da ciò è da non vi è da raga mi rimetto lo scudo perfetto noi siamo a posto allora da che parte però mi dice che di qua c'è un nemico vabbè che se ne frega raga mi sto cagando a dorso in sto posto inquietante che cazzo di spavento cos'era? è una trappola forse oro ciao ma sto andando all'inizio di giusto? ok grazie dell'oro raga non io sono sicuro che sto ma sono nel posto di prima oddio raga mi sto perdendo tantissimo si mi sa che sono nel posto di prima sono tornato indietro ma what the fuck oddio bam mamma aspetta mi riuscendo il loro lo sapevo oh questa è molto valorosa cioè molto ha molto valore molto valore molto valorosa dai la strada è sicuramente questo devo capire solo che spavento che spavento che cazzo va è un gioco pieno di suscito per scappa oddio lo sapevo ma si impari ragazzi è una salvata perchè non vorrei ok di qua ragazzi penso che dobbiamo andare spero che dobbiamo andare di qua perchè sennò si ragazzi penso proprio di si che figo sto posto conti che figata stiamo attenti a non cadere perchè potrei farmi seriamente male ragazzi questo posto sembra troppo la dark soul è allucinante ok cos'è questo rumore oh oh c'è un nemico la e io ora lo faccio secco in maniera stealth vai BAM è uno scheletro oddio aumenta 19 furtività è uno scheletro che figo ora siamo in minecraft ragazzi cos'è sta roba ok oddio ah lo scheletro ma sono scarsissimi ragazzi con un colpo muoiono ma quanto sei figo ma sei una merda comunque ok cioè era bellissimo sto qua ragazzi l'appoggio tranquillo da il re degli scheletri ok qua non c'è niente andiamo via continuiamo di qua oh mamma penso proprio che devo andare lì però ok oh chi è che mi lancia le frecce? aiuto via da qua yah oddio ma mi sono fatto malissimo cazzo ma pensavo che con l'acqua mi facevo male fanculo ok eccola raga parola del potere appresa scomparsa forma ete eterea eterea ok cos'è sta roba una freccia ok quindi ragazzi ah non era questo l'obiettivo però ho trovato una nuova parola ottimo la mia spada va tanto ok carriaco sopra c'è un baule quindi fatemi andare a vedere cosa c'è anche le funzioni va dentro monete pergamina tempesta di fuoco e puzione della magica migliore ottimo allora vediamo un po' sono molto sono anche molto lunghe le queste veramente sono sono toste cioè questa è una missione principale ovviamente voglio ricordare che è una missione e cazzo devo andare ragazzi se è una cosa che c'è che è difficile sky ragazzi a orientarsi perché la maggior parte delle volte che non trovi le vie quella cosa è la vista è una cosa del tempo a cercarle è una cosa figa ma allo stesso tempo ti esaspera ah c'è un scherzo là in alto eh hai capito scherzo scherzo dove va raga dove va raga la tua paura preso stronzo grazie per le frecce uh diamanti ottimo tesco di troll madonna madonna è brutto ok penso che devo andare di qua a sto punto invece non è vero raga l'indicatore mi dice di la aspettate un secondo ah di qua raga c'è a volte ragazzi sono anche ovvie le vie ma non le vedi penso che devono andare di qua raga assolutamente allora aspettate prendiamo la spada e siamo pronti ad andare raga l'armatura per essere all'inizio non è male però cioè figa guardate che figa bellissimo armatura ok cos'è oddio che cazzo ho capito la poteva usare l'urlo nuovo ho capito capito aspetta merda magia forse inesorabile perfetti preferiti perfetto ci mettiamo questo come faccio? come faccio a quelli tutti e due? è un casino ma chi è che mi rompa sto bastardolo sopra pensate a questo qua oh è la torca dov'è? 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 è andato? eccola no liscio pam voluto preso e alla grande anche allora aspetta un regalo devo devo capire come funzionano queste queste cose aspettate aspetta ok queste non si aprono però vedi che cazzo faccio? ah ecco capito raga allora allora fatemi aprirmi tutte e due ok sono fottuto solo come si fa il suo pezzo aiuto nooo che cazzo è difficilissimo però aspettate un secondo tutto è in modo forse ho capito allora yes ce l'ho fatta ok allora mettiamo l'urlo inesorabile inesorabile ok effettivamente ragazzi gli urli li tolgo dai preferiti perchè mi dà un fastidio del mezzo ok perfetto cazzo ci sono delle pedane guarda che cazzo è? trappole ranni oddio eh no aspetta un attimo ok stifosi di stupaccare stifosi di stupaccare ok oro cioè del del un ragno che ha dell'oro va bene e raga trappole stronzissime questa apri ok raga penso che siamo arrivati cos'è? no è? ahhh ok leggi nota misteriosa fallita? fallita? trova chiunque abbia preso il corno come fallita? ma penso faccia parte della storia che è fallita spero sangue di drago ho bisogno di parlarti ho bisogno di parlarti con sequenza ah con urgenza scusate prendi l'attico alla locanda del gigante addormentato a riverwood ti raggiungerò la un amico hmm prendi l'attico cioè vai all'attico della locanda gigante a riverwood raga ok ok quindi ha preso lui la ha preso lui la cosa credo e spero che è il ciclo di tornare a riverwood fatemi capire ok vediamo un attimo raga no voglio vedere la mappa mappa del mondo ehh riverwood è di qua ragazzi si do intorno a riverwood non puoi vediare velocemente mentre salti o cadi come? ma forse perchè stavo saltando andiamo mi puoi vediare velocemente da questa posizione ora sei stronzo ecco adesso vorrei capire come faccio uscire velocemente da qua cioè dover rifarmi tutta la stada no? ma c'è una porta qua uh minchia 75 pezzi di oro ok bastone del famiglio minchia corazza laminata minchia pure questo che lo prendo merda trasporto troppo peso raga però sono cose che costano un casino queste cose voglio venderle devo per forza andare a pre- cioè devo per forza portarmene dietro queste cose assolutamente cioè devo solo trovare robe da buttare perchè sono pieno di roba ok ok questa è muota pure questa si ehm ah qua c'è stata per uscire mi sa ma fatemi buttare la roba perchè è inguardabile così è inguardabile ok 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 perfetto perfetto oh pelo male raga possiamo correre usciamo da sto posto raga perfetto uff madonna poi facciamo un viaggio rapido facciamo un viaggio rapido alla riverwood raga una leva wow perfetto quanta roba c'è qua dentro raga va cacca puttana questa è vuota questa è vuota questa è vuota questa non è vuota questa è vuota basta voglio uscire da sto posto madonna ah ma sei ritornato indietro qua raga è assurdo sto posto è veramente assurdo c'è una cosa devo uscire da qua dentro raga mi sta vedendo la claustrofobia dio santo comunque raga taglio e ci vediamo fuori ok raga sono arrivato alla porta finalmente ah è stato un patto uscire da qua oh che bello l'aria aperta qua c'è una cosa che non ho visto prima anche 54 di oro ok raga allora direi che per questo episodio ragazzi posso concludere qui mi raccomando ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi e commentate e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video qui sull'elextube non mancate bella raga e grazie per aver visto il video Grazie a tutti.